Ciao bambini, eccoci qua di nuovo con un altro video per passare un pochino il tempo in questo periodo in cui non ci possiamo allenare né incontrare. In realtà il video che vi faccio vedere oggi potrebbe essere utile anche per gli adulti. Ricominciamo da una cosa importante e fondamentale, il sapersi mettere questa benedetta cintura. Bimbi, tra di voi praticamente pochissimi sono in grado ancora di allacciarsi bene la cintura. Adesso facciamo un micro video dove speriamo di riuscire a imparare, così in questo periodo di assenza dei corsi potrete provare a casa e quando ci rivedremo, speriamo presto, avrete anche voi, riuscirete anche voi a fare il vostro bel nodo alla cintura come si deve. Seguite attentamente la mia descrizione. Allora, si prende la cintura, ok? La si piega a metà. Si appoggia la metà della cintura sulla pancia al centro. La si porta dietro. Adesso il lembo che abbiamo sulla mano sinistra dovrà andare a sparire sotto e l'altro andrà a sovrapporsi, ok? In modo tale da avere una fascia unica e non incrociata, ok? Quando ci troviamo qua, in questo punto, dovremmo avere i due lembi avanzati esattamente uguali, ok? Quello che arriva da sopra andrà a infilarsi sotto a tutte e due per formare il primo nodo, ok? Da qua, quello che avrò nella mano destra, che è quello che arriva sempre da sopra, fa sopra tutte e due all'altro e si infila. E qui abbiamo il nodo, ok? Questo qui è il nodo corretto, ok? Il buco deve essere da questa parte e come vedete, vabbè, voi non avete le scritte, per chi ha le scritte, la scritta Vovinam sul lato della vostra sinistra e la scritta Viet Vodau sul lato della vostra destra. Come potrete notare, è un pezzo unico e non è incrociato. Questo è il modo corretto per fare il nodo. Perfetto. Adesso, spero abbiate un pochino più chiaro com'è il procedimento per fare il nodo alla cintura, ma se avete qualche dubbio potete scrivere qui sotto, ok? Sul canale YouTube o mandare, per chi ovviamente ha i miei contatti, può scrivermi direttamente e chiedere qualsiasi info. Io intanto resto sempre in attesa dei vostri video fatti da casa, ok? Qualcuno me l'ha già inviato, pian piano li raccolgo così faremo una raccolta unica di tutti questi video. Una raccomandazione, mi raccomando in questo periodo, tanto ve lo diranno già sempre tutti i vostri genitori e chiunque, lavarsi bene le mani. Evitare i contatti con tutti gli altri il più possibile, tranne quelli in famiglia, purtroppo questo periodo dobbiamo passarlo così. Un po' di pazienza e torneremo tutti insieme come prima. Ciao bimbi! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS